Domenica di voti in Uzbekistan per elezioni presidenziali che non dovrebbero riservare sorprese. Appare infatti scontata la rielezione del presidente Islam Karimov, 77 anni, al potere dalla fine degli anni Ottanta. Alle legislative dello scorso dicembre i quattro partiti in lizza sostenevano tutti Karimov. Nel 2007 fu rieletto con una maggioranza del 91%. Secondo gli osservatori, gli altri tre candidati sembrano non avere molte chance di vittoria. Solo uno di questi, Saidov, gode di una certa notorietà perché streno o difensore dei diritti umani. Nonostante l'apparente democrazia, dunque, non sembra esserci una vera e propria opposizione per il leader uscente. L'Uzbekistan, paese ex sovietico dell'Asia centrale, dove vivono circa 30 milioni di abitanti, si destreggia tra Russia, Occidente e Cina. Il dopo Karimov resta però molto incerto. Per diverso tempo la figlia del dittatore è stata considerata l'erede designata al trono zbeco. Ora la donna è alle prese però con un guaio giudiziario. Indagata in Svizzera per presunto riciclaggio di denaro e accusata di corruzione in patria, si troverebbe ai domiciliari.